Sono stato allevato cattolico e felice, poi con l'adolescenza ho scoperto il mondo moderno e la vita. Poi non ne potevo più. In realtà io tornavo a casa da superiore dei CICP in cui per due estati facevamo concerti da 4-5 mila persone in una dimensione proprio all'opposto della mia dimensione familiare. Passavo dalla stalla, mettevo a posto i cavalli. Prima di entrare in casa io... La studente sono stato militante di lotta continua per tantissimo tempo, fino a che esiste la lotta continua. Poi volevo fare qualcosa di più sensato, di più utile. Era il periodo in cui i CSI erano in grande fortuna, tutte le cose andavano bene, tutte le cose andavano sempre peggio e io avevo questo malessere. Funzionava anche essere il cantante dei CSI, ma se non avessi potuto tornare ai Pascoli non ce l'avrei fatta, mi sarei bruciato in un mese. Male che vada ne faremo un cantante. Deve essere andata male, ma molto male. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS